Il lavoro in combinazione, più vicino reagisce e l'altro si analizza. Vai, c'entra, porta via, porta via, porta via, vai, si va in giro, non cambia il mente, vieni qua, scusate. Occhio, vedi, io! Come out! Bravo, bravo, dai! Bravo, bravo. 1, 2, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 4, 7, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Buona Rodi, puoi andare su con me.